e io sono arrivato in ritardo ma l'hanno spaccato e considera che è caduto a terra e si è spaccato tutti i corna l'ha spaccato, l'ha spaccato l'avvocato l'hanno preso per la gola e gli hanno detto vedi che i prossimi sono i tuoi no, allora rimaniamo che voi a erba piede non ce lo mettete a erba voi piede non ce lo mettete arrivate fino al segrino perché a erba ci siamo noi grazie